Ciao a tutti e oggi vi parleremo di Conqueror Blade. È un nuovo gioco di guerra medievale tattico MMO free to play, un libro ambizioso di strategia militare e gameplay in terza persona, profondamente tattico. Vi lascio le immagini e il commento. Conqueror Blade è un gioco di guerra PC sandbox di punta che attraversa antiche civiltà orientali e occidentali. Potremo in questo gioco ricreare un'attentica esperienza di guerra medievale. Avere mille chilometri quadrati di territorio conquistabile e il tuo campo di battaglia è un vasto paesaggio sappioso centinaia di chilometri di larghezza, con terreno vario come alte montagne, fiumi profondi, deserti feroci. Regna sul tuo regno. I giocatori possono formare case della lama del conquistatore che possono conquistare castelli e fortezze in tutto il territorio e persino creare regni sovrani. Il gioco richiede perfettamente armi, armature e truppe di molte civiltà, come un cavaliere della spada europeo e un alabardino svizzero. Inoltre Conqueror Blade presenta una caratteristica senza precedenti e la più popolare del gioco una sandbox mondiale in cui i giocatori possono acquisire un vasto territorio. Si tratta infatti di un gioco di guerra PC sandbox di punta che attraversa antiche civiltà orientali e occidentali. In questo gioco vi troverete le impagni di un generale che dovrà comandare un esercito per conquistare castelli e territori. Al momento questo gioco è in beta e dovrebbe uscire verso la primavera. Se vi è piaciuto e avete trovato interessante questo video iscrivetevi al canale, commentate e mettete soprattutto un mi piace. Grazie e alla prossima!